Ben ritrovati ragazzi con la prima challenge dei fratelli del calcio Io, Massimo e Guido ci sfideremo 5 tiri a testa con Guglielmo in porta 5 domande a testa Se rispondiamo bene calceremo con il pallone normale Se invece sbaglieremo pescheremo un handicap Direi che possiamo iniziare Possiamo iniziare, dai! Io sbaglio tutto, sicuro Che numero di maglia duvanzafata In che anno ha esordito il Carpi in serie A? 21 a 15 Stagione? 15, sì Giusto? Sì Ma zitto ballerino Mamma mia! Ma chi è? Che numero di maglia tiene Ferguson? Ferguson 6 Sbagliato 16 19 16 Guglielmo Avrei sbagliato pure Tira con la palla da beach volley Problemi 1 a 0 Dove il cacchio a girare? No Mamma mia! Vai! Vai! Ho pronto come la molla Chi è il numero 8 della Roma? Eh! Eh! Tira con la pallina da tenis Porco tu già non ci vedo normale Orco cane Vai! Non la vedo manco io Il problema è quello Quanti scudetti ha la Pro Vercelli? Facile 7 7, sì Finora solo uno massimo Uno su uno peraltro Madonna Madonna Quanto è cattiveria Che numero di maglia tiene Baschirotto? Guardate qui ma tutte con le maglie me le fai? Eh! Lui che tu che sa c'è Sono le maglie ti sei preparato Di numero Di numero Qui ma solo le maglie E tu numero a cazzo? Qui ma non lo so Ma hai fatto solo i numeri delle maglie Vabbè dai Dai Chi è arrivata prima nel girone B se era il C? Girone B? Sì B Questa l'ho fatta io Ma che cazzo Italia Cirone B di serie C Cirone B è quello mezzo Italia Eh sì Quello dalla Toscana Emilia Romagna fino all'Abruzzo Bo dico Catanzaro anche se è del Cirone C Sbagliato La Reggiana La Reggiana La Reggiana La Reggiana Tira ben dato Ben dato La voglio sponsorizzare io Ringraziamo Nonna Emma Per la sciarpetta Quando ti fa male il dente Chiamate Nonna Emma Se sei a così me ne vado Se subisco così me ne vado Il pirata Il pirata della Sabina Madonna E zitto ti stai Quale ho sgolto hai fatto Ma ci vedemi Ti sei pure e zitto Quale ho sgolto hai fatto No no io ho tirato Ho sentito il paro e che entrava Quanti gol ha segnato a Elmas nella serie A 2022-2023 8 gol No 6 Quanto ha detto lui? 8 Oh mia Mi faccio una cambia Voglio guido tira abbendato Tira abbendato Magara Volevo Ti stai qui? Vai Si Chi ha segnato il rigore decisivo nella finale del mondiale 2022 si montiel per quel coglione di mondiel vai max ma chi me la fa? guido per l'amor di cristo i numeri basta con questi cazzo di numeri fai una mia guido Pasalic, prima andata l'Atalanta dove giocava? è stato prima al Chelsea e poi dal Chelsea si è trasferito perché stava al Milan in prestito poi è ritornato al Chelsea e poi all'Atalanta non ha mai giocato al Chelsea però si però si è ritornato però è tornato comunque al Chelsea dimmi i marcatori della finale di Champions 2015 Juve e Barcellona eh sì non manco quelli di quest'anno tutti Messi Neymar è già sbagliato qui cazzo di bala che ne so io Guido, Rakitic al quarto minuto ma io non lo so pareggia Morata poi Suarez e Neymar al novantesimo ma cazzo è cato solo Neymar infatti ho scopito Tito con la barba con la barriera con la barriera? con la barba in quanto squadre è stato Ibra? quante quante allora malmo ajax juve inter milan apri a barcellona milan psg poi dopo il psg è andato allo united qui è andato in mls vabbè la nazionale non conta no? eh allora devi dire scusa a 10? eh? 10? si 9 però si 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 no la nazionale non sta ancora al galaxy? si si ma poi è tornata al milan che è la stessa qui madonna ma che parata ha fatto? prima di andare al milan c'è l'annogo dove ha giocato? prima del milan sta in germania sicuramente si dilla quella le percusa bravo le percusa bravo quanti scudetti ha vinto il cagliari? il cagliari ha vinto il scudetti? si con una scena aveva vinti 6 ma che stai qui ne ha vinto 1 ha vinto con gg riva uno aveva vinto 6 con gg riva ma c'è tanto che non è uscita eh chi è il portiere che ha segnato più di tutti nella storia? beh è facile no no rogerio sceni che tirava le punizioni i rigori ok rogerio sceni perché spavate punizioni i rigori? vado a pescare Ikita mi sa che è il terzo da aver segnato Non lo so Mira col piede debole Ma tu c'hai tutto il bordo Vabbè a me in seguito ce l'ho Ce l'ha il piede debole Come direbbe qui d'ambimancino Ambi testo e sinistro Questo segna pure Sì, sotto l'incrocio Non è gol Non è gol Non è gol Non è gol Cante, prima di andare al Chelsea Dove ha giocato? Leicester Io pensavo dicessi prima di andare al Leicester Dove ha giocato? Quello già era più difficile Eccolo qua, 4 su 5 Ragazzi, siccome è giusto che tiri anch'io Ho dato i quanti a Massimo Che è un ex portiere Spero di non fare brutta figura E spero di vendicarmi del gol che mi ha fatto Sostanzialmente Quindi una sola domanda Così per chiudere in bellezza Allora, sei pronto? Sì Quando è nato Gianmarco Ferrari? L'anno in cui è nato Gianmarco Ferrari? Il giorno e mese Il 1991 Il 91 Nooo Il 92 92 Il 92 Ero io Il 92 Sbagli in anno Tocca a me? Allora Tira da fermo Tira da fermo Tira da fermo Senza ringolta Senza ringolta Ragazzi, la prima sfida la vince Massimo Con 4 gol su 5 Poi io 2 Guido 1 Guglielmo rivedibile sui tiri di Massimo Rivedibile 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 Mentre con me Guido si è superato Comunque Non sono riuscito a gestire la sua forza Ma la prossima volta cercherò di pararli nei 5 su 5 Tutte parole E niente fatto E niente Penso ci riuscirai Spiace Spiazzo Spiazzo Il mio lavoro qui è ampiamente concluso Lasciate un like se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Condividete questo video E ci vediamo Nel percorso E spolliciate E viva la figa